Un successone anche quest'anno il Memorial De Gruttola d'Ariano Urpino, gremita fino all'inverosimile la sala ricevimenti del complesso incontro che ha ospitato la lodevole iniziativa. Lo scopo, come sempre, è quello di raccogliere fondi per poi destinarli ai bambini bisognosi del Piauin Brasile, dove, grazie a Michele De Gruttola e a questa straordinaria forza umana, si è riusciti a realizzare importanti strutture, a garantire loro assistenza sanitaria e istruzione. Grande trascinatore della serata, il noto cabarettista Enzo Costanza. E verranno un po' di ospiti da Beppe Grillo che ha detto che vuole essere presente, infatti mi ha chiamato e ha detto «È una roba pazzesca ragazzi, devo andare assolutamente!» E poi ci sarà anche Berlusconi che è decaduto, che sta qui, che voleva portare un messaggio ai bambini, mi conosceva, conosceva tutti, sono felicissimo di essere qua, ma soprattutto c'era un amico dei bambini, che è Luca Laurenti, che mi ha chiamato e mi ha detto «Devo andare assolutamente perché è una cosa bellissima proprio, quindi mi raccomando, fate sempre solidarietà e mi raccomando, andate sempre quando vi chiamano queste cose, capito?» «Grosso risultato, siamo molto contenti di questa affluenza che ogni anno aumenta di più, infatti ci dobbiamo riorganizzare per sostenere questa maggiore affluenza, speriamo anche dei maggiori incassi da devolvere a questi bambini nel Brasile». «Con qualche piccolo disagio le gente magari rimane un po' scontenti che si deve alzare, però purtroppo è una strada di beneficenza, ci dobbiamo arrangiare, ringraziamo un po' tutti i partecipanti che sono sempre puntuali, ogni anno, noi siamo contenti per quello che si fa, naturalmente chiediamo scusa per qualche disagio per quanto riguarda i posti, ci dobbiamo arrangiare». «Poi ringrazio tutti, colore che partecipa, colore che non partecipa, io ringrazio tutti. A mio figlio lo teniamo in vita in questa maniera, grazie». «Poi ringrazio tutti, colore che non partecipa, io ringrazio tutti i nostri spettatori». «Poi ringrazio tutti, colore che non partecipa, io ringrazio tutti i nostri spettatori».